Avete investito un uomo? Mica so pizza e fichi. Mirko e Manolo sono due ragazzi come tanti altri. Vanno a scuola col desiderio di finirla al più presto, ma non sanno che stanno già lasciandosi scivolare il mondo addosso. Abitano nella periferia romana e una sera investono un uomo e scappano. La tragedia si trasforma però in un apparente colpo di fortuna. L'uomo ucciso è infatti il pentito di un clan criminale e facendolo fuori i ragazzi si sono guadagnati la possibilità di entrare a farne parte. La loro vita è sul punto di cambiare. Al loro film d'esordio i fratelli d'Innocenzo firmano un'opera che dimostra la loro profonda tensione morale. La terra dell'abbastanza non è l'ennesimo film sulle periferie, quanto piuttosto un grido d'allarme e un'indagine sul valore dell'amicizia. La terra dell'abbiamo e un'indagine sul valore dell'abbiamo e un'indagine sul valore dell'abbiamo e un'indagine sul valore dell'abbiamo.